ciao sono massimo varini in questo video vi voglio parlare della acqua light black esiste in un altro colore che il honey burst ma per quella c'è un video apposito nell'andarvi a descrivere questa chitarra che fa parte della famiglia elements e si colloca come primo prezzo di per entrare in questa serie c'è la master beat la standard e c'è questa light alla base voglio iniziare dalla parte alta della chitarra della paletta come vedete abbiamo la paletta che è quattro più due che contraddistingue tutta la serie elements tutte le chitarre che siano la master beat la standard o la serie light hanno questa paletta e il manico è in acero la parte frontale invece è in palissandro anche se in futuro sarà sostituito dal south american raw pana perché il palissandro è ora tutelato dal cites ma vi posso garantire che non si sentirà differenza e raramente si potrà anche vedere abbiamo dei mini jumbo come tasti abbiamo un binding sulla tastiera dei dot un po più grandi di quelli della serie standard che anche un logo al dodicesimo mentre nella serie light abbiamo i due dot andando avanti arriviamo al punto di giunzione tra il manico e il corpo che è bolt on quindi avvitato invece della piastra metallica abbiamo queste quattro boccole che contraddistinguono i manici avvitati della serie elements anche per la parte di master built qui incontriamo il trastrode perché così come per le altre chitarre abbiamo deciso che nei manici della serie elements il trastrode sia regolabile da questa parte viene fornita la diciamo quella sbarretta metallica che permette di tirare o allentare il trastrode ma soprattutto andiamo a togliere quel foro che sta in alto nella paletta che va ad alleggerire e a togliere proprio del legno in questa zona non solo per il sustain ma soprattutto per dal punto di vista di robustezza della paletta in caso di di urti o che possa cadere non dovrebbe cadere ma dovesse cadere in questo caso in questa zona la chitarra è decisamente più robusta arriviamo invece nella zona dei pickup che sono wilkinson così come anche nella serie standard abbiamo tre posizioni standard e uno split coil che ci permette di avere altri tre suoni ma che potrete sentire nel video che seguirà in questo stesso video tra poco stop tail per come come funzione del ponte e abbiamo le corde che sono passanti quindi abbiamo questo questo stop che appoggia su questo ponte e le corde così lunghe permettono anche di avere parecchio sustain e una ottima funzionalità anche con il drop tune quindi andiamo ad ascoltare subito questa chitarra grazie a tutti 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 grazie a tutti